Frutti copiosi. Figlia mia, anche questo mese volge al termine. Vorrai che frutti copiosi fossero maturati per te da queste riflessioni, e che anche per coloro che le avranno fatte proprie maturino un giorno desideri di santità e di apostolato. Non sarà stato perciò un lavoro inutile. Nulla il Signore fa senza uno scopo e anche tu non devi mai agire sbadatamente, automaticamente e senza un fine preciso. Dal piccolo seme che marcisce nel terreno nasce il germoglio, ma da quella insignificante pianticella, quante altre spighe possono venire? Così quel lavoro che tu compi per perfezionare e soprattutto rinnegare te stessa, sarà l'inizio che ti porterà a produrre frutti per te e per tutti. I campi ubertosi di frumento sono un'attrattiva per l'occhio, che spazia e gode di quella ricchezza. Ebbene, figlia mia, l'occhio di Dio, vedendo la tua anima ricca di frutti e vedendo, per mezzo dell'Apostolato, l'avvicendarsi e il riunirsi di anime desiderose di far contento il Signore, possa serenamente rallegrarsi con voi.